Future Meets Implantology, abbiamo organizzato un grande evento, una live surgery session. Tema principale di questo evento sarà il mondo digitale, gli strumenti a disposizione dell'odontoiatra per le grandi riabilitazioni. Si parlerà di riabilitazione full arch attraverso un caso clinico che sarà esaminato dall'inizio alla fine. Verranno utilizzati delle tecnologie e degli strumenti innovativi che ci metteranno nelle condizioni di capire quelli che sono i limiti delle nostre riabilitazioni e quali sono i progressi che siamo riusciti a fare rispetto al passato. Riuscire ad utilizzare un caso clinico dall'inizio alla fine darà la possibilità di poter vedere nel dettaglio ogni singolo passaggio, di individuare ogni difficoltà, di cercare di capire quali possono essere le problematiche che il chirurgo incontra. Il caso che abbiamo preso in esame è il caso di una paziente e dentula da molto tempo a livello del mascellare superiore, un sorriso privo della dentatura dell'arcata superiore che adesso avrà la necessità di essere riabilitato, delle mucose sane, una quantità di osso sufficiente per l'inserimento dell'impianto. Può essere considerato un caso semplice ma noi abbiamo degli strumenti a nostra disposizione che lo fanno diventare un caso eccezionale in termini di conseguimento del risultato, velocità con cui il risultato è stato raggiunto, sicurezza e pulizia ed eleganza dell'intervento chirurgico e della fase protesica. Noi abbiamo quindi a disposizione degli strumenti che ci danno la possibilità di far diventare il paziente un paziente virtuale, uno strumento digitale sul quale possiamo andare a simulare la riabilitazione definitiva. Uno strumento che ci dà la possibilità di mettere in relazione il dato clinico con il dato radiografico e quindi ci permette di poter previsualizzare in modo corretto quello che è la riabilitazione finita della paziente. Ecco che vediamo un prototipo, lo definiamo come l'obiettivo finale del nostro trattamento e trasformiamo questo ancora una volta in un mondo digitale che va ad arricchirsi delle informazioni che abbiamo raccolto in poco tempo in soli due appuntamenti e a quel punto, fatta la fase di programmazione, avremo la possibilità di costruire dei sistemi di trasferimento di queste informazioni, tutto attraverso un flusso digitale, un sistema di stackable guides che ci darà la possibilità di avere guidato ogni passo. Avremo delle protesi e utilizzeremo delle protesi innovative in termini dei materiali che la costituiscono in modo che possano essere trasferite non soltanto le informazioni e le caratteristiche tecniche necessarie a ottenere il risultato finale ma anche l'estetica, ottenere un'estetica diversa da quella che potevamo ottenere in passato perché cambia la qualità e la tipologia dei materiali e quindi ecco una preview, una prima immagine di quello che sarà quel momento, il momento della live surgery session in cui avremo la possibilità di vedere tutto dal vivo. Domande che sarà possibile porre ai relatori al momento stesso della chirurgia e verranno assolutamente date delle risposte immediate, esaustive. Alla fine della live surgery session ci sarà la possibilità di avere da parte degli sponsor tutte le informazioni necessarie per capire nel dettaglio quelle che sono state le tecnologie e i materiali utilizzati. Ringraziamo per questo Oxy Implant, TreeShape e iFiber che hanno dato la possibilità di poter realizzare questo grande evento.